Ebbene a tutti ragazzi eccoci qui oggi, tornate in questo mio nuovo video Ragazzi oggi è una giornata speciale Oggi ragazzi inizieremo una nuova serie Questa serie ragazzi sarà una serie di Minecraft ma sarà una serie interattiva Infatti tutti voi potete partecipare alla creazione di questo mondo Ogni fin episodio di Minecraft il commento più originale e più creativo verrà riproposto nel video successivo Ad esempio se una persona mi scrive costruisci una farm e io la trovo un'idea originale Nel prossimo video la farò Quindi sarà una serie dove tutti potremmo partecipare Ovviamente in questo primo episodio inizierò io solamente questa serie Per poi ragazzi dai prossimi video iniziare una serie interattiva al 100% Ovviamente ragazzi in questo video inizierò solamente io a iniziare la serie e a fare le prime cose basilari Eccoci ragazzi sbarcati qui su Minecraft Creiamo il nostro mondo ragazzi Vediamo un po', creiamo un nuovo mondo Allora modalità sopravvivenza Mappa di avvio Cassa bonus la mettiamo Tipo di mondo infinito Mostra coordinate assolutamente sì E qua mi sembra tutto a posto Non so cosa significa creazione di biomi personalizzati Se qualcuno ragazzi me lo può dire nei commenti va bene E niente ragazzi Direi che siamo pronti Ragazzi 3 2 1 Vediamo un attimo come sarà il nostro mondo ragazzi Vediamo un attimo come sarà Vediamo Ah Allora ragazzi come spawn non mi piace particolarmente Vi dico la verità Allora ragazzi Ah ecco qui la cassa non l'avevo vista Meno male raga meno male Allora Vabbè niente di che ma comunque ragazzi raccogliamo assolutamente tutto Tutto ci può servire assolutamente Allora ragazzi Direi un attimo di posizionarci qui Soprattutto per questa notte ragazzi Allora Allora facciamo una cosa Craftiamoci un attimo la crafting table Craftiamocela un attimo Quindi La prendiamo E la posizioniamo Mi creo gli stick ragazzi E mi creo sicuramente un piccone E poi E poi mi devo craftare altra legna sicuramente Per farmi una spada Nell'altra ragazzi serve un po' tutto eh Mi sono fatto due accette Va bene Due accette ragazzi ci stanno all'inizio dai Ragazzi ho visto qui del carbone Me lo vado subito a prendere ragazzi Senza pensarci Assolutamente raga perché Guardate quanto carbone ragazzi Guardate qui Allora raga il carbone All'inizio sarebbe il top Ok Io spero ragazzi Che questo piccone di legna Riesca a prendere tutto il carbone Raga perché lo prendo anche dall'altro lato Perfetto ragazzi Allora qui ho finito di prenderlo Allora ragazzi Andiamo a prendere quei Cosi di carbone E praticamente ragazzi Siamo già a posto per il carbone All'inizio Ragazzi fidatevi che è molto buono Ok ragazzi L'ho preso Però io ragazzi Nel dubbio Me la prendo la pietra Perché bisogna farci tutto di pietra Praticamente ragazzi Non prendere la pietra Che dobbiamo fare Ovviamente ragazzi Io ve li tolgo Le parti dove spacco Spacco la pietra e il carbone Altrimenti diventa noioso poi il video Ragazzi prendo anche tutto il carbone Perché fidatevi che il carbone all'inizio Ci do una mano incredibile Ok ragazzi Allora diciamo Ora basta carbone Però ragazzi Io volevo subito Trasferirmi in una zona Un po' più Piacevole ragazzi Perché Tutto Sta cosa tenebrosa Ragazzi non mi piace proprio Allora ragazzi Io direi di andare davanti a noi Andiamo proprio davanti Ragazzi Uccidiamo assolutamente gli animali Le dobbiamo uccidere per forza Ragazzi Ma strano ragazzi Che non mi si è consumato il cibo Ragazzi Ma è veramente strano Ma ragazzi Ma mi si consume il cibo No ragazzi Mi sarà cominciato a venire i dubbi È strano No ragazzi Mi sa che c'è qualche impostazione Che non è corretta Ah ok ragazzi Ok Avevo fatto qualche impostazione Ho tolto qualcosa Ragazzi Ora va Vabbè Lasciamo perdere Andiamo avanti Allora ragazzi Allora Ho trovato questa mini grotta Anzi Vediamo un attimo come va Se ne va sotto No Allora ragazzi Allora C'ho un'idea Abbastanza Secondo me buona Allora Ho fatto male a non prendermi la crafting table Lì prima Ma comunque Aspettate un attimo Mi metto la crafting table qui Mi faccio la fornace Dove sta? Ok fornace Perfetto Me la metto qui sopra Poi Mi metto un attimo No mi trasformo un attimo la legna Prima E mi faccio un attimo le torce Ragazzi Così vedete? Ve l'ho detto Ragazzi le torce Su sto gioco Sono buonissime Me le faccio tante Tantissime torce Mi devo fare Vai Allora Ragazzi Io direi un attimo Di sistemarci qui Per il primo giorno Perché ragazzi Con questa serie interattiva Ragazzi Bisogna decidere cosa fare Giorno per giorno Ragazzi Allora facciamo una cosa Ragazzi Andiamo a prenderci qualche pecora Mi faccio Ci facciamo il letto E stiamo nel chilling Devo andare a prendermi Un attimo qualche pecora Il cibo Ragazzi Mannaggia Allora Mi devo mangiare la mela Per forza Me le pane Me le pane Eh dovevo mangiare ragazzi Ok Perché ho preso la legna? Vabbè Mela Pane Bisogna trovare ragazzi Cibo E Soprattutto pecore Ragazzi Poi ragazzi Mi dovrò fabbricare Assolutamente Le cose di pietra Ma vabbè Le possiamo fare tranquillamente In un secondo momento Tanto Non c'è questa Grande necessità Ragazzi Purtroppo Non riesco a trovare pecore E non riesco proprio Eh Direi ragazzi Di farci ste mucche qua Ma Dobbiamo tornare subito A casa Ragazzi Le canne da zucchero Le prendo Le prendo le canne Allora ragazzi La casa era qui Vediamo un attimo Mi sembra di sì La casa era qui ragazzi Che c'è un pollo? No Ho sbagliato io Allora E qua Ecco qua la casa Meno male Per fortuna ragazzi Che l'abbiamo trovata Oh ragazzi Ho trovato una pecora Incredibile Allora c'è una cosa Mi trasformo ragazzi Un attimo questa legna qui Me la devo trasformare E mi devo cuocere qualcosa O sennò mi metto il carbone A cuocere Questo che cos'è? Tintura marrone Eh ragà Me la faccio Ah mi devo fare Ragà Lasciate sta Allora Mo ci sistemiamo Bene Ora ragazzi Nel momento che cuociono Ste cose Mi vado a fare Il piccone di fer Di pietra La spada di pietra Un altro piccone di pietra E magari Non abbiamo legna Mi sembra No Vabbè Però ragazzi Facciamo questo Questo e basta Poi Ci riprendiamo il carbone Perfetto Ragazzi Riprendiamoci un attimo Questo carbone Qui ragazzi Che ora andiamo più veloci Che mostro sto piccone Ragà Non ci deve far schifo il carbone Ricordatevelo ragà Perché ragazzi In molte In molti mondi Che ho fatto io Il carbone Lo escludevo sempre Ma ragà Fidatevi Avere il carbone Ragazzi Ti permette di Far torce Di andare veloce A cuocere le robe Ragà Fidatevi È utilissimo Poi Intanto ragazzi Qui è notte Però ragazzi Se io riesco Voglio prendermi un po' di legna Perché voglio fare una cosa Purtroppo ragà Non sono riuscito a farmi L'accetta di pietra Però Andiamo così Ok ragazzi Ci prendiamo insieme Questo alberello qua Perfetto Ragazzi Ho intenzione Di fare una cosa Che magari È anche troppo eccessiva Per il primo episodio Ragà Ma comunque Lo possiamo fare Allora ragazzi Il mio intento Era quello di Innanzitutto Ragazzi Non voglio farla Non voglio farla così Grande Ce la chiudiamo qua Fidate ragazzi Che c'è una bella idea Secondo me Ce la chiudiamo così Ragazzi Ok Perfetto Quindi qui ce l'abbiamo Chiusa ragazzi Poi Poi Qui ragazzi Potevo spaccare Questo blocco Facciamo così Ragà Ci apriamo Questo passaggio Ce lo apriamo Ok Poi Andiamo qui sulla crafting Quindi ragazzi Allora Ci prendiamo tutta la legna Perché ragazzi Fidatevi ora ci serve E guardate che facciamo Ragazzi Ci prendiamo La nostra E dove sta Porta Eccola qui ragazzi Ce ne prendiamo sei Perché ragazzi Il mio intento Era quello di farlo Da tutti e due lati Quindi qua Bellissimo Ragà Per il primo episodio Ragà Fidate che questa cosa È molto buona Quindi ragazzi Qui ce lo Ce lo dobbiamo chiudere Tranquillamente Ce lo chiudiamo Ok ragazzi Allora 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 Lo chiudiamo da qui Facciamo che lo chiudiamo da qui Perfetto La chiudiamo da qui La casa Così almeno ragazzi I mob non ci rompono Ragà Ok Quindi qui la dobbiamo chiudere tutto Facciamo così Di tre Ok Apriamo qua ragazzi Qua la facciamo di uno La porta Quindi magari ragazzi Tre porte le potremmo Avvitare Però vabbè Quindi ragazzi Qui ci siamo fatti La seconda porta Quindi la seconda entrata E ragazzi Qui anche l'altra entrata Ah ragazzi Mettiamoci a cuocere il pesce Quindi cuociamo il pesce Perfetto E ragazzi Quindi ragazzi Il primo episodio Si conclude qua ragazzi Ringrazio a tutti Per aver visto questo episodio Scrivetemi Qui sotto nei commenti Le cose da fare Nel prossimo episodio Le più originali ragazzi Le farò Ragazzi vi ringrazio tutti Per la visione Di aspetto Ogni giorno In live su Twitch Alle ore 9 Ragazzi Iscrivetevi tutti al canale Un bel mi piace E noi ci vediamo Al prossimo video Bene ragazzi Grazie a tutti